Prima gli applausi, poi le contestazioni, clima teso all'Assemblea annuale degli azionisti di Deutsche Bank. I vertici hanno spiegato che la banca tedesca è coinvolta in almeno mille cause legali del valore di oltre 100.000 euro. Tra multe e patteggiamenti sono stati spesi oltre 5 miliardi di euro in due anni. La maxi ricapitalizzazione da 8 miliardi appena annunciata è la goccia che fa traboccare il vaso. La banca non riesce a raggiungere i requisiti di capitale prefissati con le attività giornaliere, le servono i mercati dei capitali, gli investitori dall'estero. L'operazione porterà ad un grande annaquamento delle quote degli azionisti che non partecipano all'aumento di capitale. Per il 2013 Deutsche Bank ha annunciato 1,8 miliardi di euro di nuovi accantonamenti per le spese legali. Considerando anche quelli più piccoli, la banca ha circa 6.000 contenziosi, senza contare i 180 procedimenti aperti dalle varie autorità nazionali.